Grazie Presidente. Allora, il discorso è questo. Io l'ho spiegato molto bene alla consigliera Grancio quando ci ha chiesto di apporre la firma del Movimento su questa mozione. Non è possibile anticipare il piano freddo, ma nell'ambito del vecchio piano freddo noi siamo in grado di attivare in emergenza dei posti per le persone qualora ci sia la necessità e si abbassino le temperature. Non è che queste persone sono costrette a stare per strada, perché quando qualche giorno fa è stato fatto il primo sgombero del piazzale della stazione di Burtina, hanno accettato le condizioni proposte dal Dipartimento ben 150 persone. Se stamattina c'è stato un altro sgombero, saranno comunque state proposte delle soluzioni che sono perlomeno dignitose. Quindi io non vedo l'urgenza perché le persone che non hanno voluto accettare sono consensienti e, le ripeto, non è possibile anticipare il nuovo piano freddo, ma è possibile attivare dei posti per l'emergenza freddo e in qualsiasi momento questa si presenti. Quindi noi non voteremo negativamente all'inversione dei lavori e non va bene politicamente queste cose, tanto per dire.